il fatto da me all in cd non sta capendo la base della trance si possa costruire all in si va bene ma io ho la base non c'è neanche gusto non fa la sbroffa e me lo mangia scema di guerra tanto ciao bello aspetta aspetta non ha capito